Ben ritrovato, Ambrogio Manzi, direttore Enoteca regionale Emilia Romagna. Grazie, ben ritrovati anche a voi. Allora, oggi ti vedo, secondo me, nel giusto look per parlare di un argomento che a noi italiani piace tantissimo, e che quest'anno forse è un po' a rischio, più che a rischio sarà un turismo cosiddetto di vacanze di prossimità, quindi dei luoghi più vicini per poter andare. Enoteca regionale Emilia Romagna si sta occupando di un progetto dal nome SETER, ce lo vuoi spiegare? Sì, allora, SETER vuol dire Sistema Enoturismo dell'Emilia Romagna, è un progetto multicanale che è chiaramente denominato SETER e che ha lo scopo chiaramente di mettere in piattaforma tutto il sistema legato al turismo del vino in Emilia Romagna. Devo dire, abbiamo creato una piattaforma che da un sito si arriva a questo sistema, che è www.enoturismo.emiliaromagna.it, dove chiaramente all'interno si possono trovare varie offerte. Detta così sembrerebbe molto semplice, ma devo dire che è molto complicato. Tutto questo l'abbiamo potuto fare anche grazie all'accordo con la società che si occupa di questo, che è la Magnetur, e devo dire che stiamo avviando un programma importante e ambizioso, anche perché per fare questo occorreva chiaramente prima mappare in qualche modo all'interno del territorio tutte le aziende che chiaramente volevano ed erano in grado di fare accoglienza. Devo dire che sono ormai tante, perché tutte si sono organizzate, tutti stanno facendo investimenti nell'accoglienza, perché credo che sia un valore al di là della comunicazione in senso lato dell'azienda, ma un valore anche economico, perché chiaramente poi vendono tutta una serie di servizi e prodotti che sicuramente aiutano la reddittività dell'azienda. Ascoltami Ambrogio, allora l'Italia è un paese meraviglioso, tutti ce lo invidiano, forse quest'anno saremo noi primi a riscoprire la nostra Italia, perché noi italiani spesso facciamo prima di andare fuori che riscoprire le bellezze che abbiamo. C'è una cosa che a tutti abbiamo sempre visto e continuiamo a vedere dell'Emilia Romagna, ed è quel modello di accoglienza che è, diciamoci la verità, e lo dicono gli stessi romagnoli per esempio parlando del loro mare, ci sono mari in Italia molto più belli, ma l'accoglienza e tutta questa serie di servizi che l'Emilia Romagna ha messo su, ha reso da sempre una delle regioni più elette. Cos'è, secondo te che ormai sei un emiliano romagnolo di adozione, cos'è che rende unica e così, anche come un esempio di economia forte, potente, virtuosa, cos'è che gli emiliani romagnoli hanno che magari ha qualche altra parte d'Italia dove invece hanno magari un mare pazzesco, però di fatti non c'è un'organizzazione? Ecco, tu hai citato la parola chiave, organizzazione, unita anche alla fantasia, che chiaramente questo popolo, questa comunità dell'Emilia Romagna è in grado di mettere insieme e devo dire, io vivo qui ormai da 40 anni, quindi sono venuto su, ho studiato su, mi sono fermato qui e devo dire che questa è veramente la forza di questa ragione, volere potere, devo dire che l'emiliano romagnolo quando c'è da tirarsi sulle maniche e mettersi a lavorare è condito anche da una capacità, da un'inventiva, da una fantasia unica e quindi da quel punto lì la chiave è lì, loro riescono veramente anche in questa situazione dove effettivamente tutto lascia presagire a un momento di difficoltà, lo sarà sicuramente perché chiaramente noi tutti preferiremmo e loro anche gli operatori lavorare in condizioni anche ambientali migliori, devo dire che già si stanno organizzando e credo che sarà forse la prima regione che partirà, io sono in contatto con tanti operatori che mi scrivono e mi stanno già dicendo e informando, alcuni mi chiedono anche qualche parere se è giusto fare così piuttosto che in quell'altro modo come erogare questo servizio piuttosto che l'altro sapendo che chiaramente noi delle notteche nell'erogazione di servizi non quella turistica specifica che fanno loro è molto bene e chiaramente un po' di esperienza l'abbiamo e devo dire che stanno facendo molto bene e partiranno tra i primi proprio per le ragioni che ho appena detto, loro non si lasciano tra l'altro, è un popolo che non si lascia mai, non si piange addosso, non si lascia travolgere dalle negatività che oggi devo dire che ce ne sono tanti motivi per esserlo e questo è la fossa dell'Emiliano Romagnolo ma questo è in tutti i compatti, noi adesso parliamo di turismo e quindi sicuramente gli hotelli, i ristoranti, gli stabilimenti balneari e tutto quello che ne consegue legato al turismo e tutta l'organizzazione quindi le strutture che organizzano i viaggi eccetera eccetera però devo dire che sia nel turismo che anche nel nostro compasto già si stanno trovando delle forme alternative di commercio e di erogazione dei servizi faccio un esempio, chiaramente voglio dire in spiaggia voi sapete che c'è stata la polemica del Plex Vasse che doveva chiudere in qualche modo gli ombrelloni per rispettare il distanziamento sociale, è chiaro che non è percorribile quella strada lì, io credo che oggi e devo dire che le istituzioni in questo hanno favorito, poi l'Emiliano Romagna in questo sono veramente molto bravi, questo percorso, noi abbiamo una spiaggia molto lunga, l'Adriatico dove siamo noi chiaramente, è molto profonda e lunga quindi permette anche di occupare quegli spazi oggi cosiddetti liberi che sono del demanio dove chiaramente il distanziamento può essere rispettato, questo sicuramente favorisce, poi per quanto riguarda, noi lo sappiamo bene perché parlavamo nella precedente puntata di Carta Canta dove anche tanti stabilimenti dei balneari oggi fanno ristorazioni, sono dentro, come no? Vendono vino, devo dire anche lì ci si organizzerà come di fatto si organizzano tutti i ristoranti, le noteche, le bar con il distanziamento sociale, sicuramente ci sarà qualche fila più da fare, sicuramente ci sarà da avere un po' più di attenzione, però comunque si va avanti, si fa quello che si può e si fa il meglio di quello che si può considerando le condizioni, devo dire che in questo Emiliano Romagnolo è fantastico. Quindi per concludere il progetto Seter è un progetto al quale aderisce appieno l'unoteca regionale in Mila Romagna e che ci permetterà e anche invoglierà chi vuole conoscere ancora meglio questa regione di scoprirla anche in quest'estate 2020 con tanti punti interrogativi e sicuramente come dire che saranno vacanze tra virgolette più limitate, come dicevo di prossimità e questo… Io vorrei dire, vorrei fare un minimo approfondimento, nel senso che chiaramente l'obiettivo non è quello di portare solo i tanti visitatori nelle aziende, perché da sola non funziona, prima quando parlavo delle attività che noi svolgiamo parlavamo di una logica di sistema, noi in questo progetto chiaramente metteremo a disposizione dei pacchetti che valorizzano il territorio, ma non solo dal punto di vista vitivinicolo, anche dal punto di vista artistico, culturale, del food, come ne parlavamo prima, cos'è che rappresenta questa regione anche per il food, di tante attrattive che questa regione oggi chiaramente è in grado di offrire e questo viene fatto non solo come accennavi tu in questa fase dove chiaramente molto probabilmente sarà… C'è bisogno di una spinta. Di una spinta e magari anche del turismo interno in qualche modo, ma anche in prospettiva per i tanti stranieri che vengono nella nostra regione chiaramente e quindi noi cominceremo a fare degli accordi anche con organizzazioni straniere. Ne voglio citare una, che è la Guain Travel che chiaramente viene fatta in collaborazione tra la Camera di Commercio Italo-Canadese, con l'APT Emiliano Romagnola, perché? Perché chiaramente attraverso questo sistema che è già avviato per loro, loro sono in grado chiaramente attraverso questa piattaforma di raggiungere 2 milioni di visualizzazioni di potenziale consumer, quindi diventa fondamentale e quindi con la propensione proprio dell'acquisto del Made in Italy, quindi anche l'Emilia Romagna. Devo dire che questo può diventare uno degli esempi da estendere anche a altre parti dell'estero dove chiaramente è molto richiesta la possibilità di venire in Emilia Romagna. Perché dico questo? Perché le dobbiamo rendere fruibili anche dal punto di vista visivo, cioè chi va nella piattaforma vede anche i luoghi e chiaramente li vede prima, perché chiaramente non tutti conoscono le bellezze anche dell'entroterra, dei piccoli borghi dove chiaramente guarda caso sono collegate le nostre aziende, le aziende medio-piccole, gli agriturismi, chi comunque eroga un certo tipo di servizi, ma dalla degustazione alla ventità della Camera, all'equitazione, alla piscina, attività sportive, fitness eccetera, chiaramente quindi è proprio un'esperienza che vai a vivere nell'azienda, non sono solo in pianura, sono anche in collina e quindi chiaramente va promosso e va valorizzato e solo facendolo vedere chiaramente uno si rende conto e lo può rendere più fruibile e vendibile, uso questo termine che a volte non piace, però non ne conosco altro. Rende l'idea, lo scopo è quello di portare i tanti visitatori nel territorio, dico territorio non solo azienda, dove sono le nostre aziende, perché se vanno in quel territorio poi vanno anche nelle nostre aziende e dico di più, io faccio sempre un esempio, mi dicono ma scusa Manzi, mi dicono, questa è una questione di visione, mi dicono ma cosa te frega a te del monumento piuttosto che del castello, piuttosto che del borgo, piuttosto che del casaro tu ti occupi di vino e dico no, questa è una visione corta, piccola, perché faccio un esempio, io vado in vacanza su Colle Piacentini piuttosto che in Romagna a Predappio, faccio un esempio a casa, mia moglie del vino molto probabilmente ne potrebbe fregare meno, magari siamo in giro e dico guarda cara, io oggi vorrei andare a visitare una cantina, vorrei anche degustare alcuni vini, dico tu cosa fai? Dice vai, perché non ti vai a visitare il castello di Rivazza per esempio, parlo di Piacenza e poi ci troviamo a pranzo nell'azienda dove mangiamo, magari pomeriggio ci rassiamo in piscina oppure nella fitness e poi la sera magari andiamo a fare un giro a cavallo piuttosto che, quindi vedete che all'interno di un nucleo anche piccolo di due persone come la proposta del territorio più è ampia più ci guadagna anche il singolo produttore anche del vino, perché molto probabilmente se io non desse la possibilità a mia moglie di andare al castello di Rivazza molto probabilmente non potrei andare neanche a visitare l'azienda che è in quel territorio, quindi faccio sempre questo esempio per far capire che chiaramente se noi valorizziamo il territorio è un fatto culturale, dobbiamo fare sistema dove tutti ci guadagniamo, il nostro obiettivo è chiaro, ci occupiamo di vino è quello di portare i visitatori nelle aziende vitivinicolo, però bisogna trovare anche le strategie, gli strumenti per farli arrivare insomma e quindi crea tutta una serie di condizioni, stiamo facendo accordi anche con alcune strutture per il trasporto, per i percorsi con le bike e quindi stiamo mettendo insieme tutto un sistema che chiaramente deve favorire la visita in quel territorio e quindi anche attraverso le nostre aziende, all'interno delle nostre aziende. Bene, grazie, grazie Emilia Ambrogio, grazie di averci parlato di Seter e di tutto quello che Enoteca regionale Emilia Romagna sta facendo per promuovere non solo le proprie cantine, ma soprattutto un territorio da scoprire in quest'estate 2020 che sarà solo l'inizio di tutto questo percorso sul quale state investendo molto, grazie. Grazie a voi per questo spazio, arrivederci a presto e in bocca al lupo a tutti, di buon proseguimento appena si può, non solo attraverso… Uscire! Uscire, si può uscire. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie mille, grazie Ambrogio.